Straordinari per 60.000 euro pagati ad amministratori e dirigenti dell'ANM che non ne avrebbero avuto diritto. La denuncia è del sindacato Faiza Cisal di cui Carlo Giordano è segretario provinciale, secondo cui nell'ultimo anno sarebbero stati sborsati fondi per retribuire ore di straordinario non autorizzato a personale dell'azienda napoletana di mobilità. Oltre al danno a nostro avviso c'è anche la Befana, nel senso che l'azienda per alcuni mesi ha pagato gli stipendi in ritardo, non ci sono soldi per i pezzi di ricambio, poi nel mese dicembre è arrivata la Befana per parecchi lavoratori, nel senso che l'azienda a nostro avviso ha dato di lo straordinario, sono circa 2.800.000 euro per quest'anno, di straordinario addirittura a nostro avviso sul Beggio, non perché è stato effettuato, anche perché in certi casi la direzione ha fatto gli ordini di servizio nei quali dice che se non c'è l'autorizzazione lo straordinario non viene pagato. Dall'azienda rispondono che in base alle nuove regolamentazioni interne non è possibile per i dipendenti dell'ANM percepire straordinario se non dietro autorizzazione. Tutte le ore conteggiate in più rispetto al lavoro ordinario devono infatti essere giustificate e autorizzate dall'amministrazione. Inoltre Alfonso Trotta, responsabile del personale dell'azienda di mobilità, aggiunge Lo straordinario lo hanno avuto le risorse che hanno effettivamente lavorato e questa loro attività è certificata dalle registrazioni delle presenze. Lo straordinario lo hanno avuto quindi tutte le persone che sono state coinvolte nelle attività aziendali per le effettive esigenze e quindi non credo che abbiano avuto nulla di immeritato rispetto alla presenza lavorativa e all'attività disimpegnata.